Il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Aloia, ha invitato le amministrazioni di diversi comuni cilentani ad opporsi contro la decisione di sopprimere il 118 di Vallo della Lucania. L'invito sarà accolto nel prossimo consiglio comunale dal comune di Omignano e dal sindaco Emanuele Malatesta. Tale scelta è dettata anche dalle criticità presenti nei comuni dell'area del Montestella. Questo intervento, si legge dalla pagina ufficiale del comune e tanti altri che hanno salvato vite umane, sono stati possibili grazie alla presenza della centrale operativa del 118 di Vallo della Lucania, dove gli operatori, in pochissimi secondi, devono decidere le modalità di intervento, tenendo conto dei mezzi a disposizione in quell'attimo, delle distanze e del personale eventualmente già impegnato in altri soccorsi. È una fase delicata, continua, che richiede speciale competenza, conoscenza del territorio, e il compito è reso difficile dalla considerevole estensione dell'area di competenza, che abbraccia tutto il Cilento, da solo già a basso quanto una provincia, dove le strade sono un fattore X nel calcolo della tempistica, ennesimo colpo basso per il territorio del Cilento, penalizzato dai piani di riordino previsti nella bozza dell'atto aziendale dell'Asile Salerno. Ci si chiede, si legge ancora sulla pagina del Comune, come potrà essere garantito in futuro un intervento d'urgenza, qualora dovesse scomparire il 118 di Vallo della Lucania.